Ciao! Oggi siamo qui e in questo tutorial vedremo come realizzare un attitude sui tessuti aerei. Se non l'avete ancora fatto correte subito a guardare il mio primo videocorso gratuito che vi sarà indispensabile per eseguire tutti questi tutorial comodamente dal salotto di casa vostra, proprio come me in questo momento. Andiamo subito a realizzare il nostro attitude in area, quindi salgo e faccio una semplice salita. Ora vado a realizzare la chiave al piede. A questo punto mi posiziono sul tessuto, braccio sinistro va in alto, con il destro passo oltre, mi tengo un secondo e cambio il braccio. sempre col sinistro prendo il tessuto che mi passerà dietro la schiena e a questo punto sviluppo il mio attitude. adesso per tornare rifaccio il movimento opposto tenendomi con il braccio destro. a questo punto sciolgo il mio nodo e ho realizzato il mio altitude sui tessuti aerei. a a a a a a a a a Grazie per la visione